fra il tormento e la grazia leggere la bibbia come gli ebrei al tempo di gesù più o meno questo è il targum una splendida esperienza di ermeneutica l'ermeneutica è una parolaccia assolutamente no ne parliamo quest'oggi con la nostra anico la nostra labere ebraista quasi biblista bentornata sul nostro canale per questo primo video sull'esperienza del targum e per chi non l'avesse ancora fatto vi invito a iscrivervi per seguire anche tutti gli altri contenuti a tema cristianesimo ed ebraismo carissima allora siamo curiosi di sapere dunque che cos'è il targum vado a condividere allora le slide veramente curiosi sì assolutamente assolutamente perché fra gabbro intanto buon natale a tutti cioè siamo ancora nel tempo natalizio no fino il 2 febbraio eh sì questo video viene registrato come potete vedere dall'albero nel tempo di di natale ecco insomma auguri a tutti quando buttate fuori la il l'albero di natale il 2 febbraio allora i religiosi il 2 febbraio alcuni per il battesimo del signore fino al 15 gennaio comunque abbiamo una marca cronologica quindi possiamo ricostruire quando è stato girato questo video quindi saluti a tutti quelli che lo vedranno anche indifferita bene allora possiamo condividere le slide che ha preparato la nostra anico e che eccola qua leggere la bibbia una traduzione aramaica no sarebbe una traduzione poi tradizione aramaica bellissimo veramente capisci cioè che come vedremo i targumin fanno una traduzione aramaica del testo biblico in un modo creativissimo cioè a volte quelli che fanno il traduttore o traduttrice potrebbero anche dire che questo è una tradizione del testo ma alla fine non vediamo poi bellissimo questo una traduzione ecco allora come ogni tomista che sono ti domando e lo vedo già scritto nelle slide che cos'è un targum allora il targum c'è la radice cioè il targum significa traduzione semplicemente ma si usa come terminus technicus per la traduzione aramaica del testo ebraico della bibbia poi qui c'è uno sbaglio poi vi spiego c'è la radice i targum quindi questo questa radice significherebbe tradurre semplicemente da questo viene la parola targum come traduzione anche cioè esiste questo questa espressione di meturghe man e qui mi devo correggere non so tu puoi mettere il tuo cosore oppure si vede il mio eeeh no purtroppo non vabbè comunque lì sotto targum c'è scritto meturghe man sì ci sono due ghimer che è una cioè misspelling ok va bene scusatami scusatami quindi quello cartellino giallo sì grazie anche rosso quindi da un ma guarda per per incoraggiarti ti arriva comunque un applauso grazie ok allora meturghe man ci siamo ottimo sì meturghe man sarebbe quello che traduce il testo e questo possiamo incontrare nella letteratura ebraica aramaica poi il contesto dei targum sarebbero le scuole tra parentesi dove hanno hanno studiato più profondamente il testo della bibbia no praticamente la torah era una cosa che spesso hanno studiato e cioè si dice così che nel bet ha midrash in queste scuole per studiare questi testi biblici è nato questo modo di tradurre il testo ebraico in aramaico per far capire meglio il senso del testo del testo ebraico cioè la torah e anche per per i profeti eccetera poi da questo contesto e cioè hanno spostato questi traduzioni aramaici nella sinagoga nella liturgia ma quindi quello che è veramente importante che questi testi aramaici suppongono che anche il testo aramaico viene letto quindi della traduzione quindi per esempio quelle cioè la 70 non lo suppone la pescetta che sarebbe la versione siriaca non lo suppone ma questa versione aramaica ancora sì ok quindi chi leggeva questi testi conosceva allora chi vediamo se ho capito bene chi leggeva anche la traduzione aramaica sapeva bene l'aramaico fondamentalmente l'aramaico sapeva bene ma già ebraico non è detto che lo capiva ah interessante perché cioè il testo della bibbia è un ebraico stranissimo cioè ci sono diversi livelli della lingua cioè c'è antico 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 ebraico c'è quello dell'esilio eccetera quindi così intanto auguri a tutti ah capito io oggi non ho preparato nulla sta lì la mia tazza vabbè no nemmeno una tazza che vergogna gabrio sì gabrio no devi preparare un calice di vino e ce l'ho giù in cucina non faccio in tempo non adesso per la prossima volta per la prossima è vero la prossima volta ok quindi traduzioni ehm aramaica della bibbia benissimo vediamo adesso il quando sì allora io e quando dice un no adesso cioè noi abbiamo avuto tanti problemi con i pipitie adesso ha fatto un po' un pasticcio si dice così si si dice così fare un pasticcio o in romanesco un casotto un casotto esatto quindi adesso non vedete quello che io ho preparato scusatemi sul livello estetico lo farò correggere ma comunque il quando sarebbe tra il tre e dodicesimo secolo dopo Cristo quindi tutte queste traduzioni nascono dopo Cristo dal terzo secolo fino al dodicesimo ma non è detto che al dodicesimo secolo cioè intendo che c'è un tarbum samaritano che hanno tradotto no hanno copiato scusatemi questa è la parola giusta hanno copiato nel dodicesimo secolo ma non è detto che la traduzione avvenne ehm nel dodicesimo secolo quindi qui vedete che qui io ho segnalato che adesso non si vede non so perché bene che ci sono diversi periodi rabbinici da Naim, Amoraim, Gaonim, Rishonim, Aharonim cioè c'è un sacco cioè ci sono anche ci sono anche più eh intendo se vai con più dettagli e vedi più eh poche ma alla fine vediamo che c'è i tarbumim insieme con altri testi che poi nel video se fate pausa potete vedere cioè ci sono più cioè tipo siamo nel periodo dei Amoraim e Gaonim cioè dal terzo secolo fino al sei, sette, otto, nove poi c'è quella traduzione samaritana che non sappiamo se esisteva prima o no quindi questo solo per farvi vedere non so se tu adesso puoi mostrare così che la seconda e la terza epoca e l'epoca dei Targumi si vede? eh no, eh no il mio cursore non compare comunque va bene ma comunque si vede che il secondo e il terzo e poi quello che qui è importante è che cioè il problema è che i tarbumim spesso sono considerati cioè un po' separati dalla letteratura rabbinica diciamo così antica ma alla fine qui vediamo che tutto si inserisce in questo milieu mentale spirituale e di pensiero cioè siamo in questo flow della letteratura rabbinica sì 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 molto interessante c'è un passaggio praticamente dall'inizio che cioè si inserisce praticamente subito dopo se vogliamo la prima ondata chiamiamola così della Laka la Morraim è quasi non dico immediato ma insomma nelle prime fasi di questo sviluppo della letteratura ebraica passatemi il termine insomma e va bene sì cioè ci sono dei studiosi dei studiosi che dicono che cioè la traduzione di certi targumin risalgono all'epoca prima al Tannaim cioè che già nel primo secolo per cui che dicono che forse magari anche Gesù conosceva alcuni di questi testi non dico che tutti ma alcuni forse ma oppure alcune tradizioni cioè così perché sempre c'è una tradizione orale poi viene una tradizione scritta sì 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 quindi scusatemi qui non lo so StreamYard ha fatto i miei slides un po' un po' brutti ma poi vedrete come allegato magari puoi fare una link per il PPT giusto sì 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 farò così quindi da quando al quanti ecco stiamo facendo tutte le categorie proprio tomiste classiche no che cos'è non ricordare non scordare che io ho ancora domenicano quindi oh meno male oggi sono stata oggi sono stata in un cioè ho incontrato un rabbino abbiamo fatto una lezione insieme con un altro rabbino da Gerusalemme anche in quel caso San Tommaso d'Aquino è stato citato almeno cinque volte oh ecco ti becchi sicuramente un altro applauso poi tu vuoi mettere anche il link di quest'altra di quest'altra di quest'altra live che hai fatto magari nei sottotitoli magari con facebook nei sottotitoli si può seguire sì con sottotitoli sì perché era in Maggiaro quindi ecco ma praticamente cioè è stato un incontro bellissimo comunque vale la pena di guardare per i sottotitoli quindi quanti e quali sono qui io non cito tutto adesso a voce cioè se vedete il video fate stop e poi lo leggete tutti ma comunque quello che è importante è che ci sono i targumim della Torah vedete che dal terzo secolo fino al dodicesimo secolo e tu in particolare questo puoi dirlo ti occupi di fare ricerca su quale di questi targumim targum neofiti 1 avevo l'onore di avere questo codice perché è un codice copiato in 1504 secondo il colofone come si dice il colofone non si traduce il colofone il colofone in 1504 e adesso quando io vado nella biblioteca vaticana lo posso anche vedere quindi è molto interessante ho delle scoperte piccole per me interessantissime colleghi della biblioteca vaticana che saluti e che ringrazi eh sì esatto molto è un è un aiuto particolare bellissimo così perché io scriverò la mia tesina anche di questo targumim e non vedremo l'ora di leggerla allora intanto noi come vedete intanto sarà un po' grammaticale ma lo potete leggere comunque sì ok vediamo vediamo poi ci sono i targumim dei profeti che i targumim in italiano forse lo chiamate Jonathan 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 sì che è nato in Palestina cioè i primi passi poi la redazione è avvenuto a Babilonia poi ci sono i targumim dei rotoli che sarebbero sarebbero i ketubim che sono collane miste con tante aggiunte attualizzazioni cioè per esempio quando leggiamo il Shir Hashirim cioè Song of Songs sarebbe il mondo dei tanti sì allora all'inizio il targum dice che questo è il più bello canto non so come si inizia il testo ebraico e poi dice che questo è il più bello canto del mondo nella storia eccetera e poi dice quali erano i più belli canti prima il canto di Abramo non lo so Davide eccetera quindi fa una lista di dieci canti dalla Bibbia ebraica che conosciamo quindi veramente ci sono tanti 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 tante aggiunte poi ci sono lamentazioni libro di Ruth Esther quindi questi sono interessanti una volta se volete possiamo leggerli insieme scriveteci nei commenti se vi piacerebbe dopo che avrete gustato anche il secondo video che uscirà fra qualche giorno leggere anche altri targumim insieme ad Aniko e a Fra Gabriel chiaramente sì senza Fra Gabriel il club non funziona quindi no se volete io esco guardate io esco e rimane solo va bene allora qua leggiamo nella slide attuale una traduzione interpretativa il cui scopo è quindi la finalità un'altra delle categorie tomiste che poi di fondo sarebbe la la finalità è sempre una delle prime cose che il fine è quello che si va a dire sì cioè lo scopo sarebbe rendere il senso più chiaro del testo ebraico facendo così di diminuire anche le ambiguità del testo perché come dicevo a volte già non capivano molto il testo ebraico per cui a volte questa traduzione aramaica fa delle modifiche per evitare le ambiguità e spesso ci propone oppure propone al lettore all'uditore un'interpretazione molto molto chiara sì non dice che può il testo può significare questo questo e questo no lui sceglie uno che è adatto alla teologia attuale e dice questo è il significato punto interessante vi faccio una domanda dimmi se più o meno può essere assimilabile cioè se secondo te il tu sai lo sai meglio di me perché sei biblista sei quasi biblista non è detto che so alcune cose meglio di te sappiamo che la la lettura ha un scusami la saga scrittura ha un senso pieno il sensus plenior che ogni esegeta ma ogni studioso ogni credente cerca di cogliere a partire dal senso letterale potremmo dire così facendo mutatis mutandis cioè facendo le dovute considerazioni e differenziazioni che comunque i targumim cercano di far trovare il sensus plenior di quel passo seppure fra di loro hanno interpretazioni diverse difficile dire così intendo che adesso queste categorie sono categorie medievali no? cioè quello è molto difficile proiettare progettare proiettare proiettare in questi testi perché alla fine loro hanno avuto questo scopo di dare un un'interpretazione kosher del testo cioè un'interpretazione adatta alla fede giudaica punto non è che sensus plenior o no perché anche tra gli ebrei esisteva esistevano quattro livelli dell'interpretazione della Bibbia ma qui in questo caso non parliamo di questo ok cioè nei midrashim se volete faccio anche un video dei midrashim cioè quelli che spiegano la Bibbia hanno questo scopo di dare dei commenti in in quei casi si vedono i diversi livelli per cui possiamo parlare anche di sensus plenior non lo so eccetera ma comunque va bene questa cosa che anche noi nella chiesa cattolica abbiamo quattro livelli secondo il distico medievale che la lettera gesta docet analogia quod credas moralis quod sagat e insomma i quattro sensi e l'ultimo è ciò a cui tendono quindi il senso letterale il senso quello che noi diremmo dogmatico quello morale e infine quello escatologico se vi piacerebbe se vi piacerebbe escatologico anagogico se vi piacerebbe avere anche un video sul midrash ce lo scrivete nei commenti e comunque lo domanderò anche nel nostro nella nostra chat allora se volete avere anche un video della cioè della tradizione interpretativa cattolica dei padri per esempio no padri della chiesa anche quello scrivetelo nell'ocento non è perché io sono esperta ma perché io conosco delle persone con cui si potrebbe fare bellissimo grazie modo di parlare di dio oh parli con più parli con più riverenza riverenza vai eh scusami sì sapete che io non parlo bene l'italiano quindi ma diciamolo questo video è stato combattutissimo abbiamo fino no con questo PPT abbiamo combattuto siamo arrivati a tardanotte per registrare questo video quindi arriveremo alla fine forza allora sì cioè io quando ho analizzato un po' uno di questi targonim di cui parliamo allora io ho fatto diverse categorie cioè queste categorie sono un po' mie un po' di diversi studiosi e specialmente io adesso studio tanto da Craig Morrison per cui veramente cioè sono molto grata che salutiamo sono molto grata per le sue osservazioni quindi ci sono due grandi temi che cioè i targumim mentre fanno questa traduzione interpretativa e anche didattica perché vogliono un po' un po' guidare il lettore e l'uditore per un senso più corretto che non non è in opposizione della fede ebraica cioè ci sono due grandi temi uno è il modo di parlare di Dio e l'altro è il modo di parlare di Israele e della tradizione ebraica eccetera perché poi nella letteratura rabbinica sapete che c'è il discorso delle mitzve cioè come si fanno le cose che regole dobbiamo mantenere eccetera quindi tutto è armonizzato con questi temi cioè il modo di parlare di Dio praticamente dà un imperativo per il lettore e l'uditore di parlare con più riverenza di Dio cioè perché nella nella Bibbia ebraica a volte no vediamo Dio come se fosse un uomo che entra nel mondo umano e così cioè ci potrebbe essere un malinteso che allora Dio è come un uomo che non è vero è solo un modo di parlare di quell'epoca antica per cui il Targum che vede questi testi da un certo certa distanza di tempo dice che va bene anche se ci sono questi cioè queste menzioni di Dio dove Dio ha le mani all'occhio sembra come un uomo noi descriviamo lui come come un ente totalmente trascendente per cui evitano di rappresentare Dio come cioè contratti umani e poi per esempio la mano di Dio diventa il potere di Dio cioè più astratto tutto più astratto la bocca di Dio diventa la membra di Dio che sarebbe il parlare di Dio e poi anche per cioè nella stessa linea per evitare la rappresentazione quasi più umano di Dio non sempre però cioè questo è un grande punto esclamativo cioè non sempre solo quando è ambiguo a volte cioè dicono che va bene qui nel testo ebraico è scritto cioè Dio è descritto come una persona che vede che vede udisce ascolta ascolta a una cognizione per cui allora anche se è descritto lui così noi facciamo una piccola modifica usiamo un verbo che sarebbe rivelarsi e facciamo una costruzione passiva e diciamo al posto di Dio ha udito la sofferenza di scusatemi qui c'è uno sbaglio scusatemi la sofferenza del popolo al posto di questo facciamo davanti a Dio si è rivelata la sofferenza del popolo cioè capisci la differenza che diventa più più immediato quindi qui che io ho evidenziato con grossetto si dovrebbe essere davanti a Dio si è rivelata la sofferenza del popolo cioè non di Dio scusatemi e poi il Targun inserisce anche diversi mediatori divini cioè evita di descrivere il contatto tra divino e umano in modo diretto per cui si inserisce dei mediatori diversi mediatori che hanno diverse funzioni e questo non è cioè come dire in tutti i Targun è un po' differente cioè si deve studiare caso a caso ma questi grandi mediatori sono per esempio la membra il parlare di Dio spesso abbinato con il nome che sarebbe la cioè quando c'è l'abbraviazione del nome divino come si dice in italiano? il tetragrammato il tetragramma sì sì cioè a quel posto a volte scrivono anche il nome Hashem Adonai sì e poi c'è il mediato ovviamente il parlare di Dio spesso si presenta come un mediatore che sostituisce la bocca di Dio oppure sostituisce l'attività di parlare di Dio poi c'è anche la shekinah la presenza di Dio spesso abbinato con la gloria questo non succede sempre poi c'è anche la misericordia di Dio che diventa una mediatore o mediatrice tra divino e umano nei casi quando umano vorrebbe cioè l'essere umano vorrebbe chiedere qualcosa dal divino cioè dice per esempio Mosè io ti chiedo per mezzo della misericordia di te oppure di Dio cioè non dice che io ti io ti chiedo qualcosa direttamente ma c'è una mediatrice poi ovviamente c'è l'angelo di Dio c'è un angelo che distrugge appare anche lo spirito cioè questi sono tutti alla fine dell'elenco sono tutti mediatori che hanno anche una fondamenta biblica già dalla Bibbia ebraica perché l'angelo si presenta spesso anche nell'Antico Testamento ma alla fine nei Targumim diventano un po' figure più sicuri più caratterizzati ah bello questo sarebbe interessante secondo te io parlo un po' chiaramente da dogmatico no fare una ricerca per vedere la figura degli angeli per esempio in un Targum specifico ad esempio la figura dell'angelo in un Targum specifico ovviamente sarebbe interessante poi ci pensiamo ci inventiamo quindi si potrebbe scrivere una tesi di questo quindi la cosa importante è che in questo modo di parlare cioè i Targumin vogliono sottolineare che Dio è sopranaturale trascendente ed hanno questi elementi così didattici per essere guidati nel cioè nello flow nello flow del della fede ebraica nello scorrere nel darsi della poi si vede la stessa identica cosa per esempio come parlano di Israele cioè nei Targumin per esempio enfatizzano l'autorità dello studio della Torah poi mettono in centro questo ambiente liturgico anche se già non esiste il Tempio non ci sono sacrifici concreti ma come memoria per custodire nel cuore questa memoria dei sacrifici anche se c'è soltanto la liturgia sinagogale cioè loro accentuano questo soprattutto nei Targumin dei Salmi importantissimo cioè là ci sono anche i Kohanim i preti i sacerdoti ebraici eccetera che fanno delle cose quindi è bellissimo bellissimo da leggere poi per esempio nel mio codice diciamo mio sì scusate allora quando dice figure femminili o lo dici fra un po' figure femminili sì allora quando diciamo figure femminili dimmelo perché cippora in italiano c'è una traduzione diversa vai sì eh sarebbe sefora o zippora eh sì quello è un dettaglio dai quindi ti prendevo in giro vai avanti vai vai grazie quindi questa cosa per esempio come i figli di Israele vengono descritti è un po' diverso perché e questo potrebbe essere o una polemia con il cristianesimo oppure una simpatia cioè non si sa si può interpretare in entrambi modi ma comunque i figli di Israele almeno nel mio codice di codex neofiti cioè loro vengono descritti con abbastanza regolarità come il popolo dei redenti oh bello eh questo è molto bello qui anche c'è una i c'è una i vabbè sì scusatemi cioè abbiamo combattuto con con questo pipiti tanto sì il powerpoint è stata la guerra di questo video quindi sì 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 poi gli anziani di Israele non vengono descritti come anziani ma vengono descritti come saggi e sappiamo che i saggi sono sempre un'autorità no? sì nel popolo ebraico quindi è molto importante cioè il testo aramaico dà una funzione sociale a loro che ce l'avevano ma un po' spiega la situazione poi per esempio la figura di Mosia Aronne anche questo nel mio codice viene descritto in una maniera un po' diversa cioè loro vengono descritti come maestro e insegnante poi traduttore cioè Aronne diviene traduttore di Mosè che insegnante mentre nel testo ebraico vengono descritti tu sarai come Aronne sarà come la tua bocca e tu sarai come io o qualcosa del genere facciamo una parentesi per chi ci segue vi ricordate che Mosè era balbuziente e quindi Dio dà Aronne come colui che espliciterà il messaggio di Mosè quindi qui abbiamo un'ulteriore traduzione interpretazione insegnante traduttore sì perché un po' il Targon vorrebbe dire la funzione elimina tutti i simboli elimina le metafore quindi vuole essere più diretto più chiaro poi anche le figure femminili cioè vengono descritti come partecipanti attivi nella storia della redenzione del popolo eletto e qui volevi dire che il nome Zippora è Miriam Miriam va bene Zippora e anche Sephora tradotto nella va bene lo fate voi non in ebraico è Zippora va bene lo so lo so qui anche questo slide è un po' rovinato ma va bene cioè ho portato un esempio solo per farvi capire che il Targum a volte evita lo scandalo cioè quelle situazioni narrative dove per esempio i guidi i leaders del popolo eletto fanno qualcosa che controlla legge o fanno una cosa non totalmente kosher a volte vengono salvati con una spiegazione e quindi qui c'è nell'esodo 4 la scena tu lo sai la scena di la scena del quello che leggiamo qui davanti a noi leggilo per favore leggo il Targum o il testo il testo prima mentre si trovava in viaggio nel luogo dove pernottava il signore gli venne contro e cercò di farlo morire allora Zippora o Sephora o Cippora prese una selce tagliente recise il prepuzio del figlio e con quello gli toccò i piedi e disse tu sei per me uno sposo di sangue allora si ritirò da lui essa aveva detto sposo di sangue a causa della circoncisione allora ditemi chi capisce questo cioè questi versetti lo capisci un po' splatter cioè un po' un film thriller così lasciato un po' tutto rispetto del testo sacro signore mio tu lo sai però sì effettivamente non è che sia molto chiaro sì ma alla fine qual è il problema che Mosè si scorda di fare la circoncisione per il figlio no? che è una cosa contro la la legge per cui adesso guarderete anche il testo del di Neofiti sempre sapete che ci sono quelle cose che con cui quando tu hai tante cose che hai scritto hai analizzato eccetera poi dopo puoi parlare solo di quella cosa quindi anche io sono un po' così anche in Codex Neofiti quando leggiamo questo cioè questi tre versetti già dai numeri delle righe si vede che il Targum aggiunge delle cose che non sono nel testo ebraico allora leggiamo che sulla via dell'alloggio un angelo della presenza del Signore e questo è un mediatore lo incontrò e cerco di ucciderlo sempre Mosè allora cipora come volete chiamare prese una pietra tagliò il prefuzio del figlio lo pose ai piedi del distruttore disse questa parola distruttore sarebbe anche quest'angelo che distrugge non si sa esattamente come si pronunciava in aramaico quindi non vorrei sembrare più preparato come quei studiosi grandissimi che hanno sacrificato tutta la loro vita la vita sì quindi c'è questa figura del distruttore che è molto interessante che evita cioè se mettono il distruttore l'angelo distruttore qui in questo brano significa che non Dio voleva uccidere Mosè perché Dio non vuole e non può uccidere nessuno capisci sì e allora vediamo cosa dice Zippora poiché il mio sposo voleva circonciderlo grazie ma suo suo cero non glielo permisse il sangue di questa circoncisione possa ora espiare i peccati di questo sposo quindi qui Zippora dice che no Mosè voleva circoncidere il figlio solo il suocero non lo voleva per cui la responsabilità va al suocero quindi abbiamo evitato lo scandalo che Mosè fosse un uomo che ha dei sbagli punto punto è sempre colpa del suocero insomma sempre sempre e qui ho messo questo bellissimo sai cos'è a che dà? no e la quando legano Isacco ah quindi questo ho messo qui perché magari in una seconda puntata leggeremo questo testo chissà 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 con questa miniatura bellissima molto bella sì 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 credo che abbiamo ancora una slide o mi ricordo male no ho solo questo benissimo allora siamo alla fine quindi vi lasciamo con questo sospeso possiamo togliere quindi grazie vabbè ringraziamo con l'ultimo applauso perfetto ok leggiamo il targumin perfetto ok torniamo noi due eccoci perfetto vedi che magicamente mentre non mi guardavi ho aggiunto anche il sottotitolo club eri ebraista quasi biblista sì l'ho visto l'ho visto ma non sono mica ebraista no cognome sei ebraista vabbè ok allora no veramente un tema interessante che continueremo ad approfondire prossimamente vogliamo ringraziare Aniko ripeto quel segno lì che vedete non è che perché vi si è macchiato il computer ma è perché Aniko ha scritto in ebraico ecco la ringraziamo per questa interessantissima esposizione sui targumim e vi lasciamo quindi con se volete avete domande potete scrivercele al nostro indirizzo di posta elettronica club teologicum yahoo.com che fra un momento vi apparirà eccolo qua e ci scrivete per qualsiasi curiosità io poi girerò la mail ad Aniko che in teoria dovrebbe poter entrare anche lei nella mail di servizio sottotitolo guardaci pure te va bene grazie mille allora di nuovo se volete scrivermi così direttamente non è molto difficoltoso Aniko dot schnieder chioccio la gmail dot com benissimo poi magari aggiungeremo nei commenti la tua mail cari grazie mille per l'ascolto e continuiamo a camminare insieme fra il tormento e la grazia ciao buonanotte o buongiorno a seconda di quando vedrete il video esatto